Noi siamo in mezzo a barchi altrui, noi sappiamo dove andare, siamo noi e siamo noi l'alternativa alla destra, siamo noi e la battaglia che si gioca è su questo fondamentalmente, chiudere con la destra e chiudere con vent'anni di regressione della politica italiana. Chi è in grado di reggere questa sfida? Ci sono altri interlocutori in grado di reggere questa sfida? Io dico di no, non ho bisogno di far polemiche con nessuno, non abbiamo bisogno di far polemiche con nessuno, dobbiamo naturalmente fare i conti con le aggressioni altrui, ma noi soprattutto dobbiamo fare la nostra proposta a questo Paese, la nostra proposta di cambiamento, questo è quello che dobbiamo fare. E allora non sarà una passeggiata naturalmente, la destra c'è, aggressiva, ha risorse, sa benissimo che l'avversario siamo noi e loro vedrete suoneranno le loro trombe e noi ci attrezzeremo al solito a suonare le nostre campane. La nostra arma atomica è l'appello al popolo delle primarie.